E' stato un incontro illuminante questo di Milano. Dal mio punto di vista come olandese questa iniziativa ci dice che quando tu inizi a pensare cosa vuoi raggiungere tra 10 o 20 anni devi anche iniziare ad agire e questo è proprio quello che la città metropolitana di Milano sta facendo. Perciò a me piace la proposta relativa al trasporto delle merci sul territorio e ovviamente lo sviluppo di infrastrutture verdi nel campo della logistica è un bel esempio di come lavoriamo oggi sul futuro e sul domani.